Leo Szilard era un appassionato di fantascienza, forse per questo capì prima delle prove sperimentali che lui stesso contribuì a trovare che c'era la possibilità di una reazione a catena a seguito della fissione nucleare. E dal libro di Wes di cui abbiamo parlato intuì prima di tutti gli altri che il finale sarebbe stato una bomba di proporzioni gigantesche. Così dalla Germania dove insegnava si spostò prima a Londra e poi negli Stati Uniti alla Columbia University dove avrebbe collaborato con Fermi prima di scrivere la famosa lettera con Einstein e poi si sarebbe trasferito a Chicago sempre con Fermi per collaborare al progetto Manhattan per la costruzione di una reazione a catena controllata. Aveva pregato tutti i suoi colleghi più importanti dai coniugi Joliot-Curie a Bohr a Fermi stesso di nascondere i risultati delle scoperte perché sapeva che i nazisti avrebbero cavalcato l'onda e tentato anche loro di far costruire l'ordigno nucleare ai loro fisici tedeschi. Ma l'appello fu ascoltato in ritardo. Quando i fisici inglesi e americani decisero di nascondere le loro scoperte in merito era già troppo tardi. Tutti sapevano specialmente in Germania dove la scuola di fisica dove Sillard stesso peraltro aveva insegnato e lavorato era di altissimo livello non solo per la presenza di Heisenberg. Non c'era dunque tempo da perdere e bisognava costruire la bomba prima dei tedeschi. Un blocco di beriglio da una parte, un grammo di uranio dall'altra e con il bombardamento dei neutroni del primo sul secondo si trovano altri neutroni emessi dalla fissione che possono generare la reazione a catena. Ne abbiamo già parlato ma per migliorare l'efficienza serve rallentare i neutroni e arricchire l'uranio naturale in modo da raggiungere la massa critica stimata intorno all'80 per cento di uranio 235. Siamo ai primi di marzo del 1939. Il 16 dello stesso mese Hitler sfila a Praga. La Germania ottiene infatti Bohemia e Moravia. Perché è un momento cruciale per i fisici e per la bomba? Perché proprio in Cecoslovacchia a 150 chilometri da Praga a San Joachimstal per la precisione è presente la più grande miniera di uranio d'Europa e ora è diventata di proprietà nazista. La Germania ne blocca immediatamente tutte le vendite e questo è un segno che il Terzo Reich si sta muovendo per sfruttare le nuove scoperte sul campo nucleare nel fronte bellico. Qualche mese dopo viene fondato l'Uranverain, il club dell'uranio, un gruppo di lavoro scientifico con un unico obiettivo, la bomba atomica. Il club si propone subito di primo trovare un modo per moderare i neutroni secondari cioè per rallentarli alla più efficace energia cinetica. Secondo cercare i metodi migliori per la separazione degli isotopi raggiunga un rendimento ottimale di liberazione rapida di energia cioè sia altamente esplosivo e infine creare un reattore per controllare la fissione e specialmente di questo si sarebbe dovuto occupare Werner Heisenberg che si unirà al club dell'uranio solo successivamente. Heisenberg non era stato coinvolto perché inizialmente era considerato un ebreo bianco così era chiamato cioè uno di quegli scienziati che era amico degli ebrei che difendeva la fisica non ariana diciamo così ed era visto con grosso sospetto dai nazisti per le sue posizioni molto critiche rispetto al nazismo. Fra l'altro era appena stato negli Stati Uniti ed era tornato solo nel Natale del 1938. Dunque con la miniera cieca l'uranio viene prodotta in grande quantità per quanto riguarda il moderare i neutroni viene inizialmente battuta la strada dell'utilizzo dell'acqua cosiddetta pesante. Se infatti negli esperimenti iniziali di Fermi era stata usata la paraffina si era poi capito che le sostanze contenenti idrogeno potevano essere degli ottimi moderatori. In particolare l'acqua e soprattutto l'acqua in cui i due atomi di idrogeno che la compongono fossero stati appesantiti cioè fossero gli isotopi deuterio e trizio anziché prozio. Ricordiamo che il prozio è l'isotopo dell'idrogeno più presente in neutra e dunque nell'acqua comune e non contiene neutroni nel proprio nucleo mentre il deuterio e trizio ne contengono rispettivamente uno e due di neutroni la moderazione con quest'acqua sarebbe stata tremendamente più efficace. Tuttavia produrre acqua pesante utilizzando anche solo il deuterio era estremamente impegnativo e costoso motivo per cui in America la svolta si ebbe quando si capì che la graffite non solo era più economica ma era anche più servibile nel senso di utilizzabile per un ordigno proprio per questo scopo cioè per il controllo della velocità. I tedeschi però avrebbero di lì a poco invaso anche la Norvegia dove c'era a Weimork la più grande produzione di acqua pesante al mondo quindi prevedevano di risolvere il problema dell'acqua pesante molto facilmente. Lo stabilimento di Weimork è stato teatro di uno dei più grandi e intriganti di sabotaggi della storia della seconda guerra mondiale. Lo racconta splendidamente Sam Keen nel suo libro La brigata dei bastardi. Rimaneva solo da risolvere la questione legata all'arricchimento dell'uranio cioè alla separazione degli isotopi 235 dal 238. Questa questione sembrava soprattutto detta di Heisenberg all'interno del club di difficile soluzione molto costosa ed all'esito incerto. Nonostante ciò i lavori del gruppo continueranno per cinque lunghi anni. Heisenberg riuscirà a costruire un reattore con un fattore di moltiplicazione pari al 670 per cento cioè un rendimento eccezionale un risultato incredibile ma servivano altra acqua pesante e altro uranio per raggiungere invece la criticità. E fu proprio in quel momento che gli alleati arrivarono in Germania rapirono Heisenberg e portarono lui e altri nove fisici tedeschi in Inghilterra richiudendoli a Farmall una vecchia tenuta piena di micro spie che appunto a loro insaputa registravano tutto quello che si dicevano. Si voleva capire perché i nazisti nonostante il valore dei fisici tedeschi e tutti i mezzi a disposizione non riuscirono a costruire neanche lontanamente una bomba nucleare. Cosa venne fuori da quelle discussioni registrate a Farmall e perché Heisenberg andò a Copenhagen a parlare con Bohr in piena guerra e tentò ancora di contattarlo in seguito? Ne parleremo nel prossimo episodio.